Sì, è un bravo, ok, è meglio. Sì, è un bravo. 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 È un bravo. Sì, 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 è un bravo. Sì. Sì. ... 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 stare molto attenti con questa gendaglia che fa proprio paura. Ecco quante belle colombe che ci stanno, che volano, beccano e questi olivi ci ricordano la nostra bella Sicilia che in questo momento è così lontana e così distante ed è sempre ai nostri cuori. Ecco in questo, davanti a noi ci stanno tutti i più importanti giornali degli Stati Uniti d'America che annunciano l'abbandono di Songhas dalla campagna elettorale che dà via libera a Clinton. Poi le frecce che indicano Chinatown e forse l'Italy dove c'è il cingeremo, ad andare fra qualche momento. In California ci ha stupito il fatto che non abbiamo visto neanche una macchina della Fiat, proprio dieci minuti fa invece un Alfa 176. Chissà che cosa sarà successo con questo camionale pompiere, forse un altro incendio di San Francisco dopo quello così grande che ha distrutto la città. Sti camionale pompiere così variopinti, e Rossi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.